Sono tante le novità dell'edizione 2011 di Trentelò del gioco che premia che studia, arrivato alla sesta edizione. Intanto la location ci troviamo all'interno delle officine Grandi Riparazioni di Torino in Stazione Futuro, la mostra dedicata al futuro del nostro paese. E poi il Montepremi che è aumentato ulteriormente, oltre alle tasse pagate e al neodiplomato che vincerà, per gli universitari una bellissima vacanza studio di quattro settimane in Australia, tutto pagato. Un gioco che continua a crescere anche per quanto riguarda i numeri concorrenti, voluto da tutte le università piemontesi, dalla regione Piemonte e un ringraziamento va anche agli sponsor che ci hanno supportato. Innovazione anche per quanto riguarda il meccanismo. Quest'anno la possibilità di rispondere attraverso una piattaforma tecnologica, attraverso sms e quindi avremo oltre che i più bravi, quelli che risponderanno esattamente a tutte le domande, anche i più veloci. Vi aspettiamo allora fino al 1 ottobre alle officine Grandi Riparazioni.